Alessandro Carta E' una storia che si ripete, è un qualcosa che però vi vede aggregati, una grande tradizione e poi questa partnership anche con la Brigata Sassari a rappresentare un'intera isola. C'è questo legame che abbiamo instaurato con la Brigata Sassari, indica l'interesse e comunque la voglia di voler collaborare tra di noi come popolo sardo, quindi anche di unire una tradizione religiosa come può essere quella del gremio dei viandanti a una tradizione più militare, non di carattere religioso ma bensì di carattere politico. Il fatto che voi siete i rappresentanti della Madonna del Buon Cammino la dice lunga. La Madonna del Buon Cammino è un segno che per questo gremio vale tantissimo, più di ogni altra cosa. Come si saluta? A cent'anni a tutti, vorrei augurarla tutta Sassari e a tutti i sassaresi e non che stasera saranno in giro per godersi questa bellissima festa e vi auguro un'emozione che ho io in questo momento e che avrò stasera.